4 novembre festa dell'unità nazionale delle forze armate. Le divise sono state celebrate a Teramo e Montesilvano alla presenza anche di molte scolaresche affinché siano inculcati nei giovanissimi il patriottismo, il dogma della legalità e il rispetto per le forze dell'ordine. Una festa fatta di momenti da dedicare soprattutto alle generazioni future ai ragazzi per spiegare loro quanto importante sia l'unità nazionale e quanto importante sia l'operato delle forze armate, delle forze dell'ordine e tutti coloro che operano nel mondo del volontariato. Istituzioni civili e militari sia a Teramo che a Montesilvano. Qui il momento clou della manifestazione ha visto dei paracadutisti scendere dal cielo con un enorme drappo tricolore, discesa non senza difficoltà a causa del forte vento. Quella di oggi è la centesima celebrazione della festa che fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, tant'è che durante il ventennio fu ribattezzata anniversario della vittoria. Ma qual è la reale eredità della grande guerra che tanto celebriamo oggi? Ecco qualche numero. 700.000 morti italiani, un milione di feriti, di cui circa la metà invalidi permanenti. Il nostro paese utilizzò circa il 70% della spesa pubblica per finanziare un esercito composto per la maggior parte da contadini. 400.000 furono i soldati processati per insubordinazione e autolesionismo e 100.000 i processi per resistenza alla leva. Durante il comando del generale Cadorna morivano 11.000 persone al giorno, mentre carabinieri e polizia reprimevano chi scendeva in piazza contro la guerra. Per questi e altri motivi le celebrazioni del 4 novembre sono sempre state duramente contestate, specialmente negli anni 70. Ciò nonostante, questa è l'unica festa nazionale, antecedente al fascismo ad essere celebrata ancora oggi.